attenzione attenzione per la diffusione dell'opera del grande immenso enorme maestro William Shakespeare alla ricerca di Amleto Shakespeare as opposed e no Rossello e tu Ariel scatena la tempesta acqua e nevole di lissari guarda via un bambinetto feria Macbeth avrei preferito una morte più asciugna Shakespeare mi ha ordinato di radonare tutti i suoi personaggi su quest'isola della Bovisa e perché? perché lui vorrebbe diventare immortale e invece la gente non va più a teatro oh no padre noi come facciamo sopravvivere? andremo di casa in casa a raccontare le avventure di questi personaggi andiamo qui nei cortili di mi guarda è passato Shakespeare perché quest'anno è il quattrocentocinquantesimo anno dalla nascita del bardo e quindi da un balcone ci sarà Giulietta che diceva Romeo Romeo perché sei tu Romeo che bello che bello che tenero prospero maledetto mi fa lavorare anche nei weekend lo sapete che si dice che lui stesso sia William Jackson tu colpiscilo subito tutti colpito io sono l'ebreo del mercante di Venezia mi avete disprezzato sono ebreo ecco fa piangere anche i bambini sono ebreo ebreo non ha occhi se ci ferite non ti preoccupare incatenato noi non sanguiniamo e se ci fate un torto noi non ci vendicheremo buongiorno il sabato prossimo il giorno quattordici giugno faremo uno spettacolo dai sicuramente ci siamo va bene zitta mi è sembrato di sentire una voce gridare non dormire più cosa volete dire cosa volete dire e lavatevi dalle mani questa sozza testina potrà l'oceano del grande Nettuno lavar via questo sangue dalle mie mani no papi ci provo ancora io ora di squisire cosa sia la maestà e cosa sia il dovere perché il giorno sia giorno la notte è notte il tempo sia tempo sarebbe come sciuffare la notte il giorno il tempo ben tanto poiché è la brevità è l'anima del senno la prolissità le membra gli osnovamenti esterni saranno breve il giovane amletto è pazzo perché definire una vera pazia cos'è se non esser pazzo è nient'altro ma lasciamo andare essere o non essere questa è bella me la scrivo allora che notizie l'avete trovato? l'abbiamo trovato non è amletto buongiorno noi stiamo lavorando su Shakespeare ti faccio vedere il libro che sto leggendo si giochi di potere Shakespeare spiegato ai manager la vita è come un'ombra che cammina un piccolo attoriello che si dimena sul palcoscenico solo è il tempo dedicato alla sua parte poi di lui nessuno saprà più nulla non è messeri lasciamoci alle spalle tutte queste angosce e venite con me nel mondo dei sogni nel mondo dell'amore seguitemi se vuoi entrare dal cortilello sabato prossimo a che ora? alle 20 e 30 va bene dai perfetto ciao speriamo che io possa portare a parte quella carrozzella dove l'ho fatta? dove l'ho fatta mia? mi raccomando non ci tiri i secchi d'acqua è bellissima tutte le iniziative che avete fatto quest'anno grazie arrivederci sono bella sono morta annegrata fiume oh poverina nell'angro no oh nel te vento darò di saper amare al di là di quando puoi sognare ma ricordati amami come sei eh si facciamo Romeo e Giulietta allora? allora vengo fuori oh Romeo, Romeo perché sei tu Romeo? prenda il tuo padre e rinuncia il tuo nome come sei tu? 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 Giulietta Giulietta regala quest'amore che finisca bene come sei tu? come sei tu? come sei tu? come sei tu? che bello venite venite nel grande Luna Park Shakespeareano come sei tu? come sei tu? come sei tu? come sei tu? il volantino il volantino se lo do anche si va bene anche per bambini ti saluto ciao e ora vi invitiamo voi con i vostri volti ad abitare questi corpi venga venga facciamo fare l'ediment andate non abbracatevi si? vi abbraccio dai la nostra vera abbraccio pubblico come sei tu? come sei tu? e tu? eee best 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 to be or not to be e la paura che ci assalti more dell'aldilà ci sono i primi e parassiti senza volontà best 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 to be best 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 to be best e insieme e stress Dina 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 dove sei? Dina? bellissimo veramente meglio che al bario scusa scusa l'avete trovata a Mlet o no? ok guarda ma non piaccio grazie 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 brazie Grazie.